Barone Vassallo, 30 aprile 2022, buonasera a tutti. Allora, siamo all'ultimo giorno delle restrizioni assolute. Da domani, teoricamente, niente più sacro feticcio in alcuni ambienti chiusi, niente più sacro feticcio in discoteca, nessun sacro feticcio nei supermercati, staremo a vedere questi buffoni che cosa porteranno avanti. Ma abbiamo visto che, nonostante tutto, stanno tornando all'attacco. Perché? Questa è la notizia di oggi. Quarta dose! Torna il Green Pass obbligatorio. Ecco cosa sta succedendo. Adesso andiamo a leggere questa notizia. Però dobbiamo fare prima una premessa. Perché premono così forte sull'acceleratore? Quando tu esci di casa e vedi sotto al sole tutti mascherati, quando tu parli con le persone e dicono, beh, ma dobbiamo ancora stare attenti, dobbiamo mantenere la guardia, dobbiamo, non dobbiamo abbassare, non dobbiamo abbassare l'attenzione, dobbiamo seguire i consigli del comitato tecnico scientifico, dobbiamo stare attenti a tutto quello che facciamo, ai locali chiusi, alle persone, alle persone che frequentiamo. Quando state per la strada dovete alzarvi il sacro feticcio, se qualcuno si avvicina a pochi metri da voi. Logico che quando queste persone hanno i loro informatori e sentono ancora queste frasi, dopo 27 mesi di buffonate, chiaro che anche loro dicono, beh, ma allora continuiamo a spingere. Però leggiamo la notizia. Quarta dose, torna il sacro passo obbligatorio. Ecco cosa sta succedendo. La campagna della quarta dose langue, ma il virus continua a vivere, continua a circolare. Ci sarà bisogno di rintrodurre il sacro passo? Ne abbiamo parlato con Fabrizio Prigliasco e Matteo Bassetti. Quarta dose a rilento, colpa dell'abolizione del sacro passo dal primo maggio. Il presidente della formazione Gimbe, Nino Cartabellotta, mamma mia, Gesù bambino, Gesù bambino, ha definito la campagna per la quarta dose riservata agli over 80 e alle persone fragili. Un flop clamoroso. Il secondo booster, antisacro raffreddore, infatti è stato somministrato soltanto al 13% dei pazienti immunodepressi e al 2,8% degli anziani sopra gli 80 anni. Il sacro virus però continua a correre. Secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, tra il 20 e il 26 aprile c'è stato un aumento del 22% di nuovi casi e del 20% dei decessi. Stabili ricoveri in area medica, mentre diminuiscono lievemente i malati in terapia intensiva. Esperti parlano già di una nuova ondata in autunno. Una nuova ondata in autunno. Il raffreddore. E c'è chi auspica la quarta dose per tutti. Sarà necessario reintrodurre il sacro passo per spingere il secondo booster? Ne abbiamo parlato con il virologo Prigliasco e con l'infettivologo Bassetti. Flop della quarta dose. Dottori, c'entra l'abolizione del sacro pass. Un flop clamoroso. Così Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, ha definito la campagna per la quarta dose. Destinata ai fragili e agli over 80. Al momento solo il 13%. Il 2,8% sopra gli 80% hanno fatto ciò. Il virus però continua a correre e gli esperti temono una nuova ondata in autunno. Intanto dal primo maggio, da domani, il sacro passo non sarà più necessario. Per accedere ai luoghi all'aperto, al pubblico, fatta eccezione degli ospedali e l'RSA. L'abolizione del sacro passo potrebbe aver inciso sul flop della campagna vaccinale della quarta dose. In un'intervista, Prigliasco, direttore sanitario dell'IRCSS, ha spiegato Probabilmente l'abolizione del sacro passo può aver influito, ma è un peccato, perché i soggetti fragili è fondamentale la quarta dose per avere una buona copertura dalle complicanze. Il sacro rimedio, infatti, non riesce sempre a evitare le infezioni, ma protegge dalla malattia severa. Inoltre, la perdita di efficacia del sacro rimedio è più veloce tra gli anziani e gli adulti, ma anche tra i giovani. Vedete come prendono per il culo? Tra, allora, tra gli anziani, gli adulti e anche tra i giovani. Perde di efficacia su tutti, praticamente. Però vedete come rigirano bene la frase per prendere per il culo i meno smaliziati nel campo delle parole. La quarta dose serve anche per dare un imprinting al sistema immunitario. Ma come? Ci sono fiori di ricerche che dicono che uccide il sistema immunitario e adesso gli dà l'imprinting. Meno male che è tutto scritto. Tra qualche anno ne riparleremo. Ne riparleremo nei tribunali. Secondo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino, il flop sarebbe dovuto a una carente campagna di comunicazione. Così, ha spiegato in un'intervista, ha giocato una campagna informativa ministeriale carente. Prima hanno detto che la dovevano fare tutti, poi i fragili. La comunicazione non ha aiutato e il sacro passo non c'entra. Chi doveva fare il secondo booster aveva già risieduto le tre dosi. Era fidelizzato. Quando voi studiate economia, io ho studiato economia, la fidelizzazione del cliente è quella serie di interventi, quella serie di lavoro, quella mole di lavoro che serve praticamente a tenere fidelizzato, ovvero fedele a una marca, a un negozio, a una persona. Ecco, loro hanno fidelizzato le persone al sacro rimedio. Ma ci rendiamo conto? Alla gente bisogna dire che bisogna benedirsi, perché serve, con 70-80 mila contagi al giorno, in ospedale non ci va nessuno. Grazie ai sacri, rivedi. Ma il sacro passo sarà obbligatorio in autunno per spingere alla quarta dose? Ma cosa accadrà in autunno quando, secondo gli esperti, i casi potrebbero tornare ad aumentare? Ci sarà bisogno di reintrodurre il sacro passo e spingere le persone a sottoporsi alla quarta dose. Secondo Bassetti, il ritorno del certificato verde è una scelta politica. Io consiglierei a tutti la quarta dose in autunno. Chi ha fatto le tre dose è comunque protetto dalle forme gravi, ma è giusto rinvigorire le difese. Negano le evidenze, negano le evidenze, le evidenze dicono altro loro, le negano, le negano palesemente, non gliene frega un cazzo. E sapete perché? Perché sanno che tanto non capisce niente il 90% della popolazione. Se servirà a reintrodurre il sacro passo in autunno, si tratta di una decisione politica. Ma chi ha fatto la terza dose è come se non avesse fatto le prime due. Dunque il ciclo si completa solo con le quattro dosi di siero. Non lo so. Veramente ve lo giuro, non lo so. Non lo so come si faccia a resistere a tutto questo. Non lo so come è possibile che gli italiani continuino, continuino, nonostante le evidenze, nonostante le morti, nonostante gli eventi avversi terribili. Non capisco come facciano ancora ad ascoltare e a non fare nulla contro queste persone che sono palesemente in mala fede e se ne fregano, se ne fregano totalmente. Stanno andando avanti nella loro campagna di arricchimento. Guardate, davvero, io non ho più parole. Non ho più parole. Credetemi, non ho più parole. Buon primo maggio. A domani. Ciao a tutti.